Ciao a tutti, abbiamo il mio figlio della campagna Mainz 2014, sono qua con un Landini Power Carmo 85, doppia edizione, a calcare bastone. I mezzi in campo sono 3 metri trebbie Class Lexion dalla 450 alla 540, 2 450 e una 550, con scatta dominoni 8 file e dominoni 6 file. Per il trasporto abbiamo un New Holland T680 di 180 cavalli, il modello in questione è monta centralina, è un via Tagri F100 con una caratta OMAF da 90 quintali. Poi abbiamo il mulino, monta motore Cummins, 12 cilindri di, non ricordo bene, 410 cavalli o una roba simile, con carica del tamo. Grazie a tutti.